cecilia rodriguez sembra essere pronta per diventare mamma le prove sono ormai evidenti ecco le ultime notizie sulla bella argentina cecilia rodriguez è finalmente pronta a diventare mamma le indiscrezioni che giungono parlano chiaro e sembra proprio di sì la sorellina di belen ha fatto molto discutere per le sue relazioni amorose soprattutto quando ha deciso di lasciare francesco monte dopo quattro anni al grande fratello vip e iniziare una storia nella casa con ignazio moser la coppia ha vissuto una passione molto forte sotto lo sguardo attento del gf vip ma anche fuori la loro relazione si è dimostrata forte inattaccabile sono passati ormai quattro anni e adesso i tempi sembrano maturi per fare qualche passo in avanti il settimanale gente ha immortalato ad esempio la bella cecilia mentre passeggiava per milano facendo da babysitter alla sua nipotina la piccola luna marì nata dalla relazione di belen rodriguez e antonino spinalbese sta facendo le prove per diventare mamma la rivista ha immortalato cecilia mentre porta in giro la nipotina nel passeggino mentre le dà la pappa e non si contano i baci e le coccole della zia verso la piccola luna marì ma secondo il settimanale queste sono praticamente le prove per passare da zia a mamma infatti ormai la relazione con ignazio è solida e c'è anche un altro elemento che fa pensare che la bella che ci voglia mettere su famiglia lei e ignazio hanno comprato casa a milano prima convivevano ma erano in affitto questa volta hanno preso una casa tutta per loro e un po più grande la cameretta per il bambino c'è cecilia non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare mamma che sia arrivato finalmente il momento anche per lei si sicuro tutti queste novità stanno portando verso quella direzione per lei si sicuro Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.